salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questa particolare mattonella granny realizzata con due colori che ho voluto chiamare mattonella granny foglia proprio perché guardate sembra che si creano tante foglioline l'ho realizzata nella variante bianca e verde ma anche sul rosso alternando i colori voi potete sbizzarrirvi e crearle di tutti colori che volete prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tiktok e lì cercherò con delle storie dei post e di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciate un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cotone bianco e verde lo lavorerò con uncinetto numero 3 poi avrò bisogno un paio di forbici e un marca punti prendiamo il cotone bianco e facciamo un cerchio magico entriamo con l'uncinetto prendiamo il filo e realizziamo tre catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta filo sull'uncinetto entriamo nel cerchio e ne lavoriamo altre due quindi in tutto 3 maglie alte 2 catenelle di nuovo nel cerchio lavoriamo 3 maglie alte 1 2 catenelle e l'ultimo gruppo di 3 maglie alte quindi in tutto ci devono essere quattro gruppi stringiamo la codina entriamo nuovamente nella solina e facciamo le ultime due catenelle e ci chiudiamo nella terza catenella iniziale con maglia bassissima così prendiamo il marca punti e lo inseriamo nella solina che abbiamo appena quindi nel bianco che abbiamo appena finito di lavorare ora prendiamo il verde facciamo un cappietto per inserire il colore quindi un cappiettino che stringeremo e ci inseriamo nelle qui abbiamo le prime tre catenelle ci inseriamo fra le tre catenelle e la prima maglia alta prendiamo la solina verde e ce la tiriamo qui all'interno facciamo 3 catenelle la prima è per l'aggancio entriamo saltiamo la maglia ed entriamo fra le due maglie facendo una maglia bassa 1, 2, 3 catenelle saltiamo una maglia alta le due catenelle e la maglia alta ed entriamo qui al centro delle due maglie alte maglia bassa 2 catenelle saltiamo questa centrale ed entriamo fra le due sempre facendo una maglia bassa sempre facendo una maglia bassa 3 catenelle saltiamo l'angolo ed entriamo fra la prima e la seconda maglia alta 2 catenelle e facendo una maglia bassa e facendo una maglia bassa una maglia ed entriamo fra le due qui siamo arrivati alla fine facciamo le ultime 3 catenelle e ci chiudiamo qui nella prima catenelle iniziale con maglia bassissima tiriamo la codina e qua riprendiamo ora la lavorazione nell'altro giro col bianco quindi leviamo il marca punti dal bianco e lo inseriamo nel verde questo potete metterlo e non metterlo però chissà si tira il filo magari involontariamente non perdete la lavorazione del giro precedente quindi da una parte vi conviene metterlo ora dobbiamo ricominciare col bianco cosa facciamo? qui il bianco è in corrispondenza dell'angolo e infatti noi ora dobbiamo lavorare i giri di maglie alte con annessi angoli quindi entriamo direttamente qui dove c'è l'angolo ci prendiamo il filo bianco quindi la solina e ce la portiamo da questa parte così prendiamo il filo lo tiriamo quindi stringiamo la solina siamo direttamente nell'angolo e ci lavoriamo 3 catenelle ci sostituiscono sempre la prima maglia alta entriamo nell'angolo e lavoriamo altre due maglie alte così una catenella di separazione andiamo direttamente nell'altro angolo quindi lasciamo senza lavorato questa parte l'altro angolo è questo dove abbiamo lavorato le 3 catenelle verdi guardate si nota perché è la parte più aperta entriamo nell'angolo quindi qui sotto prendendo la lavorazione del bianco sottostante e lavoriamo 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso spazio 1 2 e 3 abbiamo lavorato il primo angolo una catenella di separazione saltiamo la parte laterale ed entriamo direttamente nell'altro angolo rifacendo la stessa lavorazione quindi lavoriamo 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte una catenella di separazione entriamo nell'altro angolo facciamo la stessa lavorazione catenella di separazione ci vediamo per completare l'ultimo angolo arrivati qui entriamo nello spazio iniziale dove appunto abbiamo iniziato la lavorazione lavoriamo 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e ci chiudiamo nella terza catenella iniziale con maglia bassissima abbiamo terminato anche questo giro e guardate già si vede la si comincia a intravedere la lavorazione che poi risulterà particolare in questa graziosa mattonella distanziamo un pochino ora qui dobbiamo riprendere il verde guardate già come si è tirato con la lavorazione quindi il marca punti è servito tantissimo in questo caso quindi sganciamo il verde mettiamo il marca punti nel bianco che possiamo anche tirare un pochino ok e qui dobbiamo entrare guardate come abbiamo fatto all'inizio è semplicissimo dopo le tre dopo la prima maglia qui dove ci siamo agganciati dobbiamo entrare qui al centro fra la prima e la seconda maglia ci prendiamo il verde e ce lo portiamo da questa parte così da qui iniziamo la lavorazione col verde quindi questo giro la prima catenella che facciamo non la dobbiamo contare con la lavorazione perché per rialzare il lavoro dobbiamo fare due catenelle e ci chiudiamo sempre nello stesso gruppetto saltando una maglia alta con maglia bassa così continuiamo facendo tre catenelle qui abbiamo la maglia alta la catenella di separazione e la maglia alta saltiamo il tutto ed entriamo fra la prima e la seconda maglia del gruppo successivo facendo una maglia bassa nel giro seguente qui lavoreremo il gruppetto di tre maglie alte nella parte laterale quindi ora lo faremo però per farvi capire come regolarvi durante la lavorazione qui continuiamo facendo due catenelle e qui in questo gruppo saltiamo la maglia alta e entriamo fra le altre due maglie facendo una maglia bassa 3 catenelle e nell'angolo saltando maglia alta le due catenelle e la maglia alta entriamo fra la prima e la seconda facendo una maglia bassa 2 catenelle entriamo sempre nello stesso gruppo saltando sempre fra le due maglie 3 catenelle entriamo sempre nel gruppo fra le prime due maglie 2 catenelle fra le altre due maglie e così via dicendo 3 catenelle ed entriamo sempre nel gruppetto fra le due maglie 2 catenelle ne saltiamo una sempre nello stesso gruppetto nelle altre due 3 catenelle e così via fino ad arrivare qui alla fine qua siamo arrivati alla fine facciamo le ultime 3 catenelle ci chiudiamo sempre nella primissima catenelle iniziale con maglia bassissima allentiamo un pochino la codina guardate sganciamo il marca punti e lo inseriamo nel verde ora il bianco entriamo direttamente abbiamo fatto le 3 catenelle di sopra entriamo perché il punto dove inizieremo con la lavorazione dell'angolo quindi ci tiriamo il bianco iniziamo la lavorazione col bianco questa solina ce la dobbiamo tirare all'interno quindi la prendiamo e la passiamo all'interno facciamo le 3 catenelle e le 2 maglie alte quindi facciamo metà angolo questo vale per tutti i giri perché questa mattonella la potete fare grande quanto volete tanto è vero che è indicata anche per fare copertine plaid cuscini quindi progetti più grandi si può ingrandire e si può fare della grandezza desiderata e partiamo sempre facendo metà angolo dopodiché faremo la catenella di separazione e qui già nella parte laterale ci ritroveremo guardate si vede chiaramente con lo spazio per fare le 3 maglie alte quindi è una lavorazione in granny normalissima poi facciamo sempre una catenella di separazione e qui entriamo nell'angolo e faremo 3 maglie alte 2 catenelle 2 catenelle e 3 maglie alte e 3 maglie una catenella di separazione entriamo entriamo qua sempre nella parte laterale e facciamo il gruppetto di 3 maglie alte e continuiamo sempre una catenella di separazione a lavorare a lavorare angolo parte laterale angolo parte laterale fino ad arrivare qui appunto all'angolo iniziale arrivati qui alla fine ho fatto le 2 catenelle mi chiudo nella terza catenella iniziale con maglia bassissima e proseguo come ho fatto finora quindi sgancio il marca punti lo inserisco in quello bianco entro dopo le 3 catenelle fra le 2 maglie prendo il filo me lo porto da questa parte e inizio la lavorazione con il verde la prima catenella non la conto 2 catenelle ed entro qui sempre nello stesso gruppetto nello spazio successivo 3 catenelle in questo gruppetto mi lavoro entro entro fra le prime 2 maglia bassa 2 catenelle entro fra le altre 2 maglia bassa 3 catenelle entro qui fra le prime 2 quindi in sostanza questa lavorazione di 2 catenelle la dobbiamo fare solo ed esclusivamente in tutti i gruppetti che ci ritroviamo e quindi le 3 catenelle invece è dove c'è appunto lo spazio e si trova la catenella di separazione 2 catenelle entro nell'altro spazio fra le altre 2 maglia bassa qui siamo arrivati all'angolo e facciamo sempre le 3 catenelle andiamo all'altro gruppetto ed entriamo fra le prime due 2 catenelle fra le altre due maglia bassa 3 catenelle entriamo entriamo nel prossimo gruppetto fra le prime due e continuiamo così per tutto il giro nel giro successivo dobbiamo sempre tirare la parte bianca nell'angolo fare metà angolo catenella di separazione e lavorare direttamente qui ma si vede guardate e se voi ci fate caso corrisponde la lavorazione dei gruppetti dove abbiamo al di sotto il verde quindi gruppetto catenella di separazione gruppetto catenella di separazione angolo catenella di separazione gruppetto e così via poi fate sempre il giro del verde allo stesso modo facendo sempre questa lavorazione e il giro del bianco sempre in un modo quindi si ripeterà per tutti i giri che volete fare alla mattonella quindi la potete fare o più piccola o più grande continuiamo la lavorazione fino ad arrivare alla grandezza che vi ho presentato iniziale vi dirò pure quant'è in centimetri quanto l'ho almeno realizzata io e così ci rivediamo alla fine terminata la lavorazione ci chiudiamo nella terza catenella iniziale con maglia bassissima abbiamo terminato la mattonella guardate è molto carina e sicuramente molto particolare ora possiamo tagliare il filo facciamo passare il filo nella solina stringiamo e con l'uncinetto lo facciamo da una parte dall'altra vi potete aiutare anche con un ago e poi lo tagliate la stessa cosa facciamo con il verde che ancora è col marca punti quindi sfiliamo il marca punti giriamo la lavorazione tagliamo il filo facciamo passare il filo nella solina stringiamo facciamo passare questo filo in qualche punto di lavorazione sempre del verde nella parte dietro e lo tagliamo questi sono i fili iniziali che abbiamo già incastrato e abbiamo terminato la nostra mattonella eccola qua la mattonellina è pronta prendiamo subito la misura misura circa 8 cm e mezzo quasi 9 cm fatta di questa grandezza e quindi quasi come una mattonella comunque granny normale come vedete sembra che abbiamo creato delle foglioline incastrate in un in questo caso io ho utilizzato il verde e il bianco voi vi potete sbizzarrire con tutti i colori che volete utilizzare perché crea un effetto veramente particolare è bello ideale sicuramente per tantissimi progetti e soprattutto lavorata in cotone in lana e in altri comunque filati non c'è un filato particolare da utilizzare per creare questa mattonella anche perché è molto semplice la lavorazione e quindi adattabile veramente a tutti i tipi di filato potete creare delle copertine dei plaid dei cuscini ma anche dei centrotavola oppure creare delle borsette con questa lavorazione quindi non mancheranno sicuramente a voi le idee io spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video